E bella a tutti ragazzi, sono Sernia, ciao! E in questo video tratterò un po' di argomenti di Jane Shimbath, alcuni personaggi che ammiro un po' di più. Allora, il primo è Venti. Venti, il suo nome è in italiano, quindi non ha una traduzione specifica. Il suo significato è il vento soffia. Venti, mi va via la voce, scusatemi. Venti sembra un bambino, ma ha il ruolo principale del dio del vento, anche se è un po' poco controllabile. Il suo amico Devlin è un drago. Viene corrotto dal male. Nel gioco di Jane Shimbath, tu, se scegli Heiser o Lumin, devi aiutare Venti a farlo ritornare nel suo stato originale. Le lacrime del drago che ti lascia all'inizio, le dovrai purificare. Venti ti chiederà anche qualcosa. La lira. Quella lira è uno strumento musicale dagli antichi romani. Probabilmente Jane Shimbath si è ispirato al mondo romano, però è un videogioco guerra fantasy, perché ci sono i draghi. Allora, Venti ha bisogno di questa lira per calmare l'ira del drago. Però, purtroppo, quando la stai per rubare, succede il casino. La lira si spezza, Venti cerca di ripararla, ma tutto inutile. Venti come professione fa il minestrello. Un po' come Catastorio, dai, Cantagallo di Robin Hood. In Jane Shimbath, nel videogioco, è possibile trovarlo, però per venti volte devi esaurire parecchi desideri. E' un'ora di tre a trovare venti, come Xiao, Diluc e altri personaggi che ne parlerò in un altro video. Parlerò di Keia adesso. Keia è il fratellastro di Diluc, da quel che ho capito. E' vero Jack che è il fratellastro? Così si dice. Vabbè, Keia, il suo nome è un nome indiano, significa il cigno bianco. L'elemento di venti è la Nemo, quindi quella specie di vortice colorato, dai. Quello di Keia, invece, è un fiocco di neve. Il suo elemento si chiama Krio. Sinceramente, Keia, come ruolo da principe, dovrebbe essere un po' più severo. Ma nei confronti davanti al viaggiatore, barra, Aizer o Lumin, sembra che vuole flirtare, qualcosa del genere. Dipende se sei Aizer o Lumin. Keia ti dà fida delle missioni molto difficili, che dovrai completare. A parte anche calmare il drago, quello ti aiuterà anche a venti. Mi piace il suo stile, il colore del suo abito, molto bello. Mi piace perché come personaggio ci sta, ma non rivela mai perché ha una benda sull'occhio. Però si suppone che abbia avuto una cicatrice, magari durante una battaglia. Oppure si dice che il padre di Diluc lo abbia ferito quando era ubriaco. La bevanda preferita di Keia è Deadly Wine, un vino molto particolare. Suona a macchina, è fantastico, scusatemi. Parliamo dell'eroe caduto, barra, cazzatore dei demoni. Ciao. Ciao a Yashka. Non vi faccio provare il telefono. Perché dico così? Xiao ha una storia tragica dietro. Non sappiamo neanche qual è il suo vero nome. Il suo elemento è la Nemo. Dicono che sia il ragazzo più forte dopo venti. Ma non è così, almeno credo. Il suo nome deriva dal nome cinese Xiaobab, serpente bianco. Anche se Xiao non è un serpente, ma è uno degli adepti. Gli adepti, nella città di Liu, vengono chiamati per essere protetti dagli attacchi dei demoni. Il popolo di Liu, come lettura della preghiera o come invocazione agli adepti, lanciano le lanterne. Ma Xiao purtroppo non viene ricordato. Che è una cosa che mi fa arrabbiare. Cioè, Xiao uccide tutti coloro che sono in male. Cioè, dovete ricordarlo, porca la di quella di miseria. Nel videogioco è considerato uno dei più forti. Almeno credo. Indossa una maschera. Questa maschera però purtroppo è maledetta, perché si dice che se la indossa, può sentire i legami carnici di coloro che sono caduti. Infatti, in una frase in inglese, going down, bound demons, scioglietevi le gavi carnici. Diluc, fratellastro di Keia. Lui è, come si può dire, colui che gestisce la taverna di Mondstadt. Ha un carattere freddo, dai, si può dire. Però quando c'è qualcosa di comico, lui sa fare. Un po' come Socrate, con Platone per l'ironia. Chi studia filosofia può capirmi. L'alimento di Diluc è il fuoco. Non mi ricordo come si chiama. Perché il Piro... Sì, il Piro. Ok, il Piro. Maestro Diluc, iperprotettivo, nel videogioco viene definito un eroe talmente strano. Perché tant'è che, quando combatte, le fiamme sembrano come una fenice. Combatte insieme al suo falco. Ma non si sa niente chi è il suo vero padre. O se Keia e lui siano fratelli davvero, o fratellastri. Jean. Jean, la cosiddetta capitana delle guardie reali di Mondstadt. Lei, di tipo l'alimento a Nemo. Lei non ha un significato, neanche Diluc. Devo ancora cercare alcuni significati. Jean è nonché la madre di Icni. Mentre Diluc è il padre. Perché Keia gliel'ha detto. Ma che cavolata si è messo in testa Keia? Non lo so. Jean, purtroppo non la vediamo in battaglia. Perché siamo noi che completiamo le battaglie degli altri. Mentre gli altri fanno ziare, non so che. Vabbè. Il bello di Jean è che con il videogioco, quando la utilizzi, è in grado di spingere le persone nel burrone. Non mi ricordo come si chiama questa tecnica. Adrius Boreas, elemento a Nemo, anche se sembra di tipo ghiaccio, però non lo è. Adrius Boreas è uno degli adepti. Nonché il padre di Razor. Dopo vi spiegherò il perché. Adrius, nel videogioco, viene considerato l'alfa del branco. Nel videogioco, quando lo sfidi, non lo uccidi definitivamente. Lui ti sta per ragionare, ma Razor ti salva. Il bello della voce di Adrius, non mi ricordo chi è che lo doppia, però ha una voce bellissima, la voce di Adrius in inglese. Mi piace, perché i lupi sono sempre animali molto fantastici nei videogiochi. Razor. Figlio, figliastro di Adrius Boreas. Nel videogioco viene chiamato Wolf Boy, il ragazzo lupo. Scambia le persone umane come Lupecola, cioè i non lupi. Lui è di tipo elettro. L'unico che non ha mai avuto contatto con gli umani. Ma si dice che Adrius lo addestra per farlo diventare un uomo. Anche se Razor non vuole diventare un umano. Il bello di Razor è che si comporta proprio come un lupo. Ha gli istinti, i sentimenti di un lupo vero. Là dietro, se lo vedete, c'è un lupo viola, che nel videogioco gli accarezza la testa. Lo scippano con Bennett, che ha una schifezza, per dirla, invece di schifezza. Per quanto riguarda Jean, la scippano ovviamente con Master Diluc. Per Keia, invece, molti lo scippano anche con Diluc. O certe volte lo scippano con Heinzer o con Lumin. Una grande cavolata. Direi che la scipp con Lumin ci sta. Ma che cavolo ti metti a mettere ad essere un gay? Ma non lo so. Venti lo scippano con Lisa. Una maga della corte reale. Di tipo elettro. Vi parlerei volentieri delle altre ship, ma... Non c'ho voglia, ragazzi. Sì, quindi è stato bello raccontarvi queste teorie, finché ho potuto. Almeno credo. E anche io ci giocavo a Jenny Shimpat, ma dopo un po' stanca, con tutti quegli aggiornamenti. Almeno spero che lo mettano anche in italiano. Poi hanno detto che hanno giunto anche le Alpi. Cosa che per me, Jack, è strano. Perché Vetti si va a rifugiare nelle Alpi se sono delle robe italiane? Questo dovrò ancora scoprirlo. Intanto vi auguro una buona serata e una buona notte a tutti. Ciao.